Una vittoria importante che vi permette di allungare sulle squadre che stanno dietro? Sì, una vittoria fondamentale direi, assolutamente. Venivamo da tre sconfitte consecutive, quindi oggi questo scontro diretto in casa era assolutamente da portare a casa. Una vittoria che ci dà un po' più di tranquillità, ma ancora ci sono sette o otto partite da giocare, quindi è dura perché abbiamo anche diversi scontri diretti, quindi questo era il primo e sicuramente tre punti che ci danno anche positività nelle altre partite. Il raddoppio di Philistat vi ha permesso di giocare gli ultimi minuti con maggiore tranquillità? Sì, Fabrizio ha inventato questa punizione, ci ha permesso di fare gli ultimi minuti in detto tu, in semplicità, ma prima purtroppo abbiamo preso anche due legni, quindi se poi non chiudi la partita si fa un po' complicata. Fortunatamente Fabrizio ha uscito questo coniglio dal cilindro e siamo rimasti tutti tranquilli alla fine. Con il tuo rientro il Fucci riesce a non prendere gol, non accadeva dalla prima giornata di ritorno? Sì, sì, con il mio rientro mi sembra che abbiamo tenuto la porta inviolata a Zafferana, la prima, è questa qua. Peccato per le tre sconfitte contro le prime tre della classe, secondo me meritavamo qualche punticino in più, però la classifica dice questo e quando non si prende gol sicuramente non è merito mio, è merito della squadra, però è importante perché di sicuro non si perde.